c'è una sottile e quasi invisibile differenza tra amore sano e amore malato comunque è piuttosto difficile spiegare cosa sia la sofferenza d'amore e più in generale l'amore però risulta più facile dire cosa non è l'amore ovvero quando è amore malato c'è anche da dire che ogni rapporto sentimentale è unico ed è anche oscuro perché nasce dall'interiorità che è fatta di un'intera galleria di fantasmi inconsci dialoganti tra loro nell'inconscio ci sono immagini interne che attivano l'eros di entrambi i protagonisti della coppia del resto il fascino della seduzione è sempre inconsapevole e perciò è misterioso è fatto di accenni piuttosto che di messaggi espliciti è fatto di sapienti movimenti evasivi rispetto al desiderio dell'altro più che di evidenti strategie di approccio e allora iniziamo a dire che le forze erotiche incarnano un profondo desiderio di conoscenza di se stessi che però avviene sempre nel confronto con l'altro un confronto ricco di opportunità ma anche di zone d'ombra e di pericoli che ci spingono ad amare anche laddove avvertiamo che l'oggetto del nostro sentimento è inaccessibile sfuggente in questo caso alcune persone si ostinano ad inseguire l'altro che incarna un'utopia e appare seducente perché rappresenta la forza di una promessa che almeno inizialmente fa sentire la vittima onnipotente la fa sentire grandiosa ed eroica cioè in grado di mangiare il mondo intero dandole l'illusione di poter realizzare ogni aspirazione non a caso l'eros è stato definito dai poeti come una risposta al vuoto e alla solitudine chi vive questa condizione si sente pronto ad affrontare il mondo in particolare il mondo interiore con la sua esigenza di riparazione e di completezza ora però bisogna distinguere l'amore sano dall'amore malato l'amore sano diciamo piuttosto sano designa uno spazio circolare tra me e l'altro è una sorta di danza con un ritmo insolito il ritmo dell'avvicinamento e dell'allontanamento della presenza e dell'assenza che è anche il ritmo del significato e dello stravolgimento di ogni significato dinanzi all'ignoto che l'altro incarna incantandoci e disorientandoci ciò che nell'altro ci incanta è proprio la sua capacità di disorientarci cioè di distoglierci dal nostro presente per immetterci con violenza in un altrove inquietante come ogni esperienza che solleciti l'emergenza di vissuti complessuali profondi del resto la parola sedurre significa portare in disparte cioè sviare l'individuo sedotto e catturato ed è sottratto ad un preciso ordine di significati quindi è condotto altrove afferrato da una forza a cui non può opporre nessuna resistenza la differenza tra amore sano e amore malato è quasi invisibile in quanto l'amore malato fa violenza è violento per la psiche l'amore malato corrode l'autostima sminuisce impoverisce la relazione stessa perché vive si nutre del bisogno di voler possedere l'altro senza accorgersi che questo è un paradosso in quanto la smania narcisistica di voler possedere l'oggetto d'amore nasce proprio dall'essere posseduti da questo bisogno quindi è paradossale quando siamo posseduti da un complesso inconscio di questo tipo allora sconfiniamo nell'amore malato e di conseguenza regrediamo ad uno stile infantile di rapporto con l'altro siamo cioè dipendenti quando questo processo è reversibile quando cioè è una regressione momentanea al servizio dell'io quindi gestita in parte dalla coscienza allora ci muoviamo ancora in un ambito piuttosto normale ma quando la regressione sfugge al controllo dell'io diventa destrutturazione diventa frammentazione dell'io e non è più un processo reversibile dunque ci ammaliamo e cadiamo in una dipendenza mortifera vedete noi in generale siamo mossi dal desiderio di essere desiderati degli altri perché abbiamo bisogno per vivere di essere riconosciuti e apprezzati chiediamo all'altro di vederci unici diversi più di ciò che crediamo di essere ed in effetti nelle relazioni d'amore sane l'altro evoca in noi un nuovo essere l'altro non offre il suo avere attenzione nelle relazioni sane non vuole possederci ma si offre a noi e tira fuori da noi un nuovo essere l'altro sprigiona in noi un nuovo atteggiamento alla vita perciò grazie a lui siamo più di prima e possiamo quindi dare di più e diamo ciò che non sospettavamo neanche di essere in sostanza siamo diversi dopo un incontro importante non siamo più uguali a prima e non torneremo mai più come prima in quanto ci siamo arricchiti siamo cresciuti in quanto l'incontro amoroso sano dilata la nostra identità la risveglia dandoci il coraggio e il senso di onnipotenza di guardare dentro di noi in quella stanza che non apriremo mai senza l'altro senza l'arrivo dell'altro nella relazione sana attraverso l'altro amiamo la parte più vera di noi stessi il guaio può arrivare dopo che questo dono ci viene ritirato e non lo abbiamo ancora fatto nostro non abbiamo assimilato quelle qualità che sono emerse nella relazione e in questo caso ci perdiamo in quella stanza nei sotterranei della nostra anima e tutta la storia che abbiamo vissuto con quella persona viene stravolta perché non riusciamo a ritirare le nostre proiezioni e viviamo in una dipendenza mortifera che ci impoverisce ma in realtà nessun amore impoverisce e anche se finisce è stato importante perché è stato necessario a far emergere parti di noi stessi che non avremmo mai contattato quindi l'amore sano consente una apertura del guscio narcisistico perciò non è facile in qualche misura dobbiamo consentire all'altro di alterare la nostra identità lasciandoci condurre metaforicamente altrove cioè nel nostro inconscio ora se nel nostro inconscio ci sono vecchi traumi o relazioni umilianti abusi soprusi è chiaro che tutto questo mondo fantasmatico verrà attivato ed emergerà con forza suscitando paure resistenze e deformazioni nella relazione in genere la persona narcisista è stata traumatizzata ha con sé delle profonde ferite che non le fanno vivere una relazione sana ma tenderà a sviluppare una relazione di potere con la vittima di turno e questa modalità le consente di mantenere le sue barriere difensive tutelandosi da una grave minaccia al suo equilibrio psichico ad esempio la promiscuità sessuale non è altro che una fuga dal rapporto più intimo e profondo che viene percepito come troppo destabilizzante ecco allora che in questo caso la regressione che vivrebbe il narcisista sedotto non sarebbe più al servizio dell'io e la persona ha due strade davanti a sé o si ammala o abbandona l'altro e scappa in genere il narcisista quando sente che si sta coinvolgendo troppo sente salire la paura e abbandona mentre la persona più in buona fede o piuttosto ingenua si ammala di dipendenza inoltre il narcisista manipolatore in particolare proietta sulla vittima la sua avidità di possesso anziché riconoscerla dentro di sé la vede nell'altro la proietta nell'altro quindi vede la vittima come una sorta di persecutore che lo vuole possedere e quindi imprigionare e cosa fa lo abbandona pensando di tutelare in questo modo la propria libertà ma questa non è libertà è paura paura inconscia di se stessi paura cioè di affrontare i propri traumi e i sentimenti depressivi connessi intanto la vittima è stata sedotta e abbandonata la sua identità risulta frammentata perché è stato attivato un complesso a tonalità affettiva con le sue immagini affetto che sono le sedimentazioni delle nostre introiezioni più precoci i cosiddetti oggetti primitivi d'amore quando siamo sedotti in realtà una componente inconscia si è attivata dentro di noi e richiede all'io di essere assimilata alla coscienza intanto però viene proiettata perché tutto ciò che è inconscio viene proiettato all'esterno sull'altro che noi idealizziamo e così attraverso l'altro io vengo catturato e sedotto da contenuti interni che chiedono ascolto e siccome il materiale inconscio è inesauribile il nostro desiderio avrà infinite mete e infiniti oggetti e allora diciamo una grande verità appunto diciamo una grande verità quando affermiamo che la vita emotiva coincide con l'attività dell'inconscio la nostra vita emotiva è lo strumento attraverso cui i contenuti psichici nascosti emergono alla coscienza nell'amore malato questo meccanismo è enfatizzato e l'oggetto d'amore appare irresistibile soprattutto quando non si concede si sottrae apparendo sfuggente oscuro appare assurdo e incomprensibile lì compare la patologia in quanto la sua indifferenza e la sua negazione non fanno che alimentare ulteriormente l'attrazione da parte della vittima quando la vittima avverte la mancanza del suo carnefice allora ha un desiderio struggente malato in quanto antepone il valore dell'altro al suo stesso valore è una sovversione dell'ordine interiore uno stravolgimento della propria identità ci si sente persi in questa condizione siamo irriconoscibili a noi stessi non siamo più noi si dice che la seduzione sia sovversiva perché questo tipo di seduzione malata si colloca sul versante del male l'altro ha il potere di farci toccare il fondo è diabolico di fronte a lui la nostra dignità risulta cancellata questo però è amore malato e dipendenza mortifera che non accresce in quanto la regressione della vittima non è più al servizio dell'io e la vittima risulta in balia di se stessa abbandonata ferita annientata nella sua volontà irretita in una passione fantasmatica divorante che intacca la percezione stessa della sua dignità questo è un fascino mortale il fascino dell'abisso che annienta nella tradizione cristiana abbiamo l'esempio di satana che seduce eva perché gli antichi avevano già capito tutto al loro modo satana cosa fa manipola eva nel tentativo di assoggettarla la illude la inganna per controllarla in questa situazione il piano del potere sovrasta il piano dell'amore e quando accade questo si può parlare di amore malato bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete almeno 300 video come questo sui vari argomenti di psicologia dal narcisismo alla dipendenza affettiva dalla psicoterapia i casi clinici la manipolazione eccetera potete scegliere su un vasto materiale sempre sotto forma di video che in genere sono brevi e chiari a volte sono un po tecnici ma spero vi siano utili alla comprensione di voi stessi e degli altri buona visione e in bocca al lupo